A causa della concomitanza con eventi e feste padronali, infatti, si è reso necessario di rideterminare le date dello svolgimento del mercato quindicinale del lunedì a Vieste. A questo proposito il dirigente del terzo settore del comune, l'ingegnere Antonio Chionchio, ha stabilito le nuove date che saranno le seguenti. Il mercato si svolgerà nei giorni di lunedì 18 aprile, per quanto riguarda i mesi di aprile, poi il giorno 2 maggio e il giorno 30 maggio. Perché questo? Perché il 25 aprile, che era il giorno predisposto, stabilito per il mercato, e il 9 maggio, sono giorni particolari, in quanto il 25 aprile a Vieste si svolgerà una grandissima e importante manifestazione religiosa e sociale, di cui diremo nei prossimi giorni, vale a dire il rally della pace, parteciperanno circa 2000 ragazzi dell'azione cattolica che proverranno da tutta l'archidiocesi di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo, confluiranno a Vieste per questa grande manifestazione. E poi il 9 maggio, si sa, è la festa di Santa Maria di Merino, è quindi possibile organizzare, tenere il mercato in questi due giorni. Fatti gli opportuni adempimenti, l'ingegner Chionchio ha stabilito queste due date. Il prossimo mercato si darà lunedì prossimo, 18 aprile, e non il 25 aprile. Il mercato del 9 maggio, invece, è anticipato al 2 maggio, mentre l'ultimo mercato si darà il 30 maggio. Quindi ricordate queste date. Comunque, se volete, sul nostro sito garganotv.it è disponibile la notizia con le date.